la parzelletta di ceppo in salone c'è un tizio bello coatto che sta a leggere il giornale no? a un certo punto saltellante tutta allegra arriva la moglie e gli fa amore? lui eh senti pensavo di riaccendere la nostra passione con un bel viaggio romantico ma che ne pensi? lui fa eh sarebbe meraviglioso ma poi ritorni? la sveglia dei gladiatori dimensione suono roma il ritmo della capitale la sveglia dei gladiatori